Il padrone di casa è il sindaco della Spezia Pierluigi Paracchini. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. Abbiamo tutti insieme voluto questo evento per raffermare, per divulgare, per approfondire il tema importante che noi abbiamo sintetizzato con un progetto di anni fa che si chiama Miglio Blu. Cioè le eccellenze mondiali che sono in questo territorio, che diventano un sistema collegato all'università, un sistema collegato alla formazione professionale e quindi diventa una filiera vincente del Made in Italy, una delle ultime filiere vincenti del Made in Italy perché come Paese siamo stati in grado di vendere quasi tutte le filiere eccellenti, l'automotive, la chimica, all'inizio del percorso dell'elettronica anche quella, la metallurgia, l'alluminio, insomma ne abbiamo fatti di disastri. Mentre questo settore è un settore dove il Made in Italy è molto forte e abbiamo dei talenti veramente unici al mondo che pensano nelle loro teste e poi nel loro cuore di trovare quella risposta, il desiderio di persone che si possono permettere un bene che sembra di lusso. Però questo bene che sembra di lusso dà la possibilità a tantissime persone, a tantissimi talenti, nelle diverse ruoli, di realizzare il loro progetto di vita. Cioè una ricchezza che sembra un oggetto, bello, bellissimo, lo yacht, che però invece è una sintesi di tecnologia, innovazione, ricerca e di talenti. Dall'operaio più semplice all'ingegnere, all'architetto che può dare il meglio di se stesso e facendo così noi creiamo ricchezza in questo territorio, in questo paese. Ricchezza vuol dire tante volte entrate anche tributarie, tassazione, servizi alla collettività e quindi quello che appare immediatamente come una cosa per pochi diventa invece un effetto positivo per tanti. Ecco perché noi da anni stiamo cercando tutti insieme di valorizzare questo settore, di far capire che è un bene per tutti e che lì ci sono anche delle sfide innovative che dobbiamo cogliere. Cioè tante volte, e avete visto perché ne abbiamo parlato più volte, chi acquista o desidera un bene di questo tipo ha un rapporto, una sensibilità particolare ad esempio per il mare, l'ambiente e quindi la ricerca dei grandi gruppi verso nuove forme di combustibili, nuove forme di comunicazione, di sicurezza, di vernici, di chimica, cioè si apre una moltitudine di possibilità, di opportunità e di filiere che per il Made in Italy sono fondamentali. È per questo che siamo qui in questi giorni a approfondire, conoscere, a capire e poi il nostro compito continuerà tutti insieme per cercare di rafforzare tutta la filiera. Il miglio blu non è solo un miglio, è molto di più e già adesso abbiamo delle filiere che vanno oltre il livello provinciale e interprovinciale. La sfida è rafforzarlo sotto tutti i punti di vista, anche quelle dell'immagine e lo stiamo facendo e sono convinto che tante generazioni troveranno in questo settore le risposte che desiderano nei loro sogni, desiderano per la loro vita e la bellezza sicuramente ci accompagnerà a raggiungere questi traguardi e per la nostra città, la nostra provincia sarà motivo di orgoglio per essere leader, leader nazionali, leader mondiali in un settore che tante volte si pensava destinato solo a pochi. Grazie e buon lavoro.